L'andamento della temperatura in Italia dal 1961 al 2019 fa emergere alcune anomalie annuali della temperatura media, aumentata soprattutto negli ultimi decenni. Per i prossimi 100 anni l'innalzamento della temperatura è previsto in tutte le stagioni da tutti i modelli, con un aumento nel migliore dei casi, compreso tra 1,8 e 3,1 gradi centigradi, fra le stime peggiori, fra i 3,5 e i 5,4 gradi centigradi. Ma quali sono attualmente le conseguenze di questo innalzamento della temperatura? Le Alpi, ormai è dimostrato, si scaldano più velocemente dal resto dell'Europa con una media di circa 0,6 gradi, con delle punte addirittura di un grado e mezzo su base annuale. I ghiacciai si stanno fondendo con una rapidità molto più spinta rispetto al passato. Attraverso le attività dei nostri tecnici teniamo costantemente monitorata la situazione e l'evoluzione degli acciai, dando quindi anche informazioni dirette sulla loro protezione e anche indirette sull'impatto che i cambiamenti climatici o comunque il riscaldamento sta avendo sul nostro acqua al pino. L'aumento delle temperature medie e il conseguente innalzamento del livello del mare stanno favorendo anche la quirsi di fenomeni estremi che rischiano di aggravare problemi già esistenti negli ambienti costieri e marini. Erosione della costa, mareggiate, inondazioni delle aree piaveggianti più depresse o infiltrazioni di acqua salata nelle falde di acqua dolce che rischiano di danneggiare la biodiversità, le attività produttive, culturali e turistiche delle zone colpite. Quali le azioni intraprese allora per arginare questi fenomeni? Strumenti fondamentali che mi piace ricordare sono quelli di utilizzo di dati satellitari anche col progetto Copernicus. Nuovi strumenti come ad esempio ARPA è una delle poche agenzie che utilizza i droni e quindi noi abbiamo adesso quattro piloti che con i droni potranno andare a monitorare anche quello che è tutta la tematica delle coste e quindi tutte le problematiche che possono avvenire in seguito a alcuna mareggiata e soprattutto infittire anche quella che è tutta la lette di monitoraggi. Attraverso il centro regionale di strategia marina abbiamo posto in campo una serie di attività di monitoraggio usando delle sonde particolari, delle sonde multiparametriche che praticamente ci danno e ci restituiscono quella che è la condizione delle nostre acque. Noi come agenzia siamo fortemente impegnati per sviluppare quelli che chiamiamo i servizi climatici, sull'agricoltura, la previsione dei fabbisogni irrigui e della disponibilità anche con previsioni di medio e lungo termine stagionale che mette insieme capacità modellistica con i nuovi strumenti dell'osservazione satellitare del resto. Anche in Veneto si osservano questi fenomeni in linea con l'area circostante, quindi sia in termini di delta di temperatura in aumento sia in termini di intensificazione degli eventi meteo avversi. L'agenzia, insieme all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, sta preparando e sviluppando un progetto europeo che si chiama AdriaClim, all'interno del quale si mettono a sistema le informazioni, i dati, si fanno analisi per arrivare a comprendere bene gli effetti a scala locale del cambiamento climatico.